Le ricerche dei naufraghi a largo di Steccato di Cutro non si fermeranno, così è stato stabilito dal Centro Coordinamento Ricerche che si è riunito nella mattinata di mercoledì 22 marzo alla Prefettura di Crotone. Le attività di ricerca, coordinate dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, proseguono ad oltranza di giorno e di notte con gli stessi mezzi già impiegati ed implementati, nonché con uomini e mezzi di presidio a terra della Guardia Costiera, con il supporto della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile Regionale. Intanto, grazie al lavoro svolto dall'Ufficio Immigrazione, dalla Polizia Scientifica Provinciale e dall'ASP di Crotone, è stato possibile stabilire che sono ancora 12 dispersi del naufragio, di cui 6 minori tra 0 e 18 anni, 3 donne e 3 uomini. 88 le persone decedute e finora ritrovate dall'instancabile lavoro dei soccorritori, ancora 12 le salme custodite all'interno del palamilone, di esse 5 risultano non identificate, 3 sono bambini e una non è stata reclamata da nessuno. Per le altre sono in via di completamento le procedure di affidamento per l'espatrio, una andrà in Iran, due in Afghanistan, una in Pakistan ed una in Palestina.